Ciao a tutti ragazzi Sono Petru, Igor il tanke E ride per niente lui Comunque lui è Senix Ray Ciao a tutti No perchè hai fatto Ciao a tutti ragazzi Ti sei pulito al naso E hai fatto Sono Petru Eh come cavolo ti chiami Totti Sono il Master Prestigio Ma perchè il mio joystick è ferro? E' mio joystick E' mio joystick Vabbè dunque Oggi faremo delle partite Non questo Non questo Perchè no? No perchè sennò non funziona Scusa Mi sa che hai bloccato l'Xbox Addirittura Se hai bloccato l'Xbox Fermiamo un attimo E poi picchiamo l'Xbox No Stavamo dicendo Faremo delle partite in Dove vuoi? Mi sudare un belico Ma che Mmm che impare Hai fatto un casino Scusa Dove hai detto Vuoi fare Dove? Come si chiama quello lì? Gioco delle armi No Sta godendo No Facciamo Facciamo Corsa agli armamenti Eh Davvero? Ti l'ho detto Corsa agli armamenti Sì la fanno nelle mutande Ah Lasciamelo una da farmi No ti paura Se avete visto il video prima Mi avrete sentito cantare Non fatemi complimenti Perchè sennò Mi arrabbio Perchè sono bravissimi Non ho fatto dei complimenti Lasciate il commentino Un bel mi piace Stai zitto Ho detto Ti lascia il mio Mi piace Superclasse L'amico Dai con me E' il metal In metal Non è male però Stiamo in una mappa Ma io non ho ancora Una mia classe Sta per iniziare Non ti preoccupare che succeda Cos'è Nacktown? Certo Ma non è del dlc colori E' comunque dlc Che hanno tutti Perchè ormai gratis E ci ha fatto scelta la partita Ah no Oh no Oh io non so Porto i gestiti E che bella durata E io ho eccesso Ah l'è in realtà Provo usare Fucce la pompa diamante Oh c'è una che mi sfida Fucce la pompa Va bene Va bene Va bene Prima kill E a destra ce ne ho Dicite di Vabbè Ah Stavo guardando da te Dio di favore No la voce Lo prendo anch'io dopo il fucile Il fucile a pompino Come fa? Ah questo qua c'è il fucile a pompa Sì pure con il Molto schifoso balordo Ti uccide la mamma e la fratella Va guardalo Che campi Bello No non è bello È bruttissimo Orrendo Schifoso Eppure è maligno È maligno No no non va bene Si prende io Sorry No vabbè C'è Le hai storditi mi sa Scusate Volevo lanciarmi una granata stordente Come ha fatto a suicidermi? Un po' si Un po' si Ma porca Eva Oh ma Eva Io conosco me che si chiamavo Eva Anch'io Non l'abbia E beh ecco lei che ci ha creato Ma muoio Oh Adam ed Eva Anzi scusa è già morto Orchè Eva sono tutti qua sopra Sono tutti qua dietro Sono tutti qua sopra Che anche dietro Ma guarda perché? Oh è fortissimo Sei un po' nabi però Sono strabelli Beh a parte la bellezza Ma porta misera Ma sto tizio camperoso Balordo Sali Oh ma Oh ma Unciso Non capivo dove andare Quello so tutelarmi diamanti Cioè tutelarmi prima di diamanti Che nabbino Eh non è nabbo quello Diffica forte Eh Sì è Forse un pochino eh Secondo me Mamma mia che tecnica tecnica Del mini 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 no Stupido cecchino Ma guardalo Stupidamente intelligente E' furbo E' più bravo di te Ah nanna E' inutile perché Ah tutti sono più bravo di te Quando qualche chilo ho fatto anch'io eh No che non me la ho fatto Ne ho fatto Sono 7 e 10 dai Carica E adesso facciamo tutti quelli che entrano L'ucciderò Tranquillamente Allora tac 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 E' tac E' 0 Ma guarda Sto schifoso Due volte l'ho L'ho sparato Che chi mi ha ucciso? Sì ma dai Vi sottorbitare i nemici EMP EMP Ah già che siamo in corsa agli armamenti Qui richiami subito Eh però non mi trovo Sì però Cioè se giochiamo in questa modalità E senza spiegarla Loro magari non la sanno Ah già è vero Scusate Corsa agli armamenti E' una Porca miseria No non è una porca miseria E' una Una modalità bonus In cui tutte le uccisioni valgono Ma porca miseria 150 punti Valgono 150 punti Esatto E perciò Perciòina E' molto più facile Arrivare Nessere di uccisione Esatto Anche se io Per me è quasi uguale Anzi peggio Perché giocando in uccisione Cavolo è Mi è passato davanti un razzo Eh sì Fai No Giocando in uccisione confermata Può essere anche peggio Perché a volte trovo Sì ma qui si gioca 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 In mezzo a squadra Eh sì lo so Sarebbe strabello Giocare in giusto Mi Eh però Un resto c'è chi non valore Gioca in giusto Su di me Eh già Beh dai io ho fatto 19 15 C'è fatto 8 18 Cosa ne facciamo Ti va di farne una In gioco delle armi Tranne se c'è una mappa nuova Sì è nuova Ormai Tra un po' di riuscire Ma La facciamo Dai che vinco sempre Giocare in giusto Gioco delle armi Dai No fanne Sperate che ho sbloccato un titolo Oh perché mi siete quanti sono Non so che titolo sbloccato questo Che titolo ha Ah è ucciso 200 salitori Bene Ah aspetta Ah esci da qua e giochiamo a Colpo in canna Almeno è corto perché Cioè almeno facciamo solo un video Ma anche questo è corto Il gioco delle armi è abbastanza lunghetto Il gioco delle armi Ah va bene dai E' cortissimo Certo 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 La partita Lo sciamo Stai scherzando E' tanto cosa ti serve Giusto Però E' una cosa di principio Che te non ci arrivi Di avrò ce la dobbiamo votare Dai Giozzettiti Giozzettiti Ma non ce l'ho messo Che bella l'emblema Quale Questo Cioè Cinque puntini Eh Cinque puntini Cos'è la del giacanac E' questo bello Ma quello Con sotto cosa vuol dire Cos'è Ma quello sopra Questa Quattipuntino Ma che ne so Ci sono cinque punti Ma non lo so Petro Cosa cinque punti Guardi l'emblema C'è ci sono cinque punti Ah l'emblema Mi guardo il titolo Un scherzo E' però non vinco No fa niente Però io voglio fare Il Prova La partita è il gioco dell'armi più veloce al mondo Con la più veloce al mondo è 123 secondi Ovvero Due minuti e tre secondi Ma provaci qua dentro Ma detto di no E' difficissima E' enorme Naktan invece piccola Rischia di fare il recor mondiale Dai ragazzi Incitatemi E' eccitatelo Ma sei così sexy Ma fa Mmm Che argo No Dai Grrrr Si E' eccitato Ormai è qui Adesso spero che inizia perché Calma il giorno 32 partite Lo sai che tutte quelle che ho fatto in gioco dell'armi Le vinte quasi tutte Eh 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 Se ne ho vinto c'è la seconda testa Un po' bella Dai 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 Naktan 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 Non ha senso quello che ho detto Dei nudisti Faccio uccidere No scherzo Io potremmo farci uccidere No no Se no non è più il record mondiale Ah scusa Non vale però Si tratta solo Non credevo che fossi te Eh invece Chi era il Paxo Vedi però se non trovo gente No cavolo Dai 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 Oh ma quello Oh ma quello Oh sono abbastanza E' il Paxo B1 Ah ah si xxd Cacca La mia Volevo fermati Lo so Anche perché non sapevo che li tu Se lo sapevo Ti fermavo Lo comunque Oh Vabbiamo pausa usaranno mamma non mi ricordo cosa vuol dire se ti ho insultato scuola vuol dire tuo mamma ho fatto una doppia simpatica simpatica ma stupidi balordi la pistolina di sto subito passato dai 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 se io gioco tipo con un mitra che poi tra l'altro spara 3 colpi e io non lo so ma bacca dai non posso fermarmi su quest'anno mi sono fatto uccidere apposta ovviamente dal nemico e ritugano non è vero beh allora ho fatto uccidere sono non so quanto sei mi sto fermando col cecchino ma porca miseria ma io ne sto uccidendo uno tu mi lasci stare poi mi uccidi e' una questione di principio non è vero mi funziona proprio così dai mi blocco col cecchino basta record forzato non riesco ucciderle costarma nel cavolo no vai li e li e li uccidio no il tutto ballista così mi fa ford su il progno di stimucio non so se sei tu o no quindi sì no beh non è che mi si va bene e bocchetti corpettino il risultato per il qui scopo buono promozione arma con un colpo la testa da lontanissima testa roba no non ci credo sono terzo no quarto no ma stavo ma chi è quello io neanche me ne sono resa conto è stato tu l'ultimo kill no dai eh siamo stati bravini bravelli che hai infirato un colpo in testa io ne ho fatte 15 e tu 19 io stavo correndo vestito non è vero vero nudo non è possibile adesso mettiamo una canzoncina no non metti un'altra canzoncina finiamo qui alla prossima mettiamo una canzoncina comunque ciao a tutti ragazzi ci vediamo allora se vuoi mettine una canzoncina no la metto all'inizio del prossimo video ci vediamo al prossimo video va bene ciao a tutti ciao 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 a tutti Grazie.